La nostra idea di fare un incontro sulla nostra carriera di lettori, come dice il titolo stesso, in cui parleremo di alcuni autori e libri che ci hanno formato come esseri umani, in fondo non soltanto semplicemente come lettori, e che quindi magari si agganciano anche a certi momenti particolari della nostra vita. Due di questi autori, tra l'altro, ce li scambiamo, nel senso che sono comuni a entrambi, e quindi faremo una sorta di doppia coppia, parlando. Io e Giorgio Fontana abbiamo gusti letterari in alcune cose similissimi, Malamud e Buzzati ci avvicinano tantissimo, e poi abbiamo una grandissima divorzio su Rott, sul cognome Rott, perché io amo Filippo Rott, lui amo Giuseppe Rott, quello buono, lui sostiene Rott è un po' quello cattivo, e qui ci dividiamo, ma anche in altri contesti, e questo ci rende le nostre cene a base di sushi, il giovedì, dialettiche, uno dice una cosa, uno dice l'altra, e comunque sia quando un autore è buono, è buono per tutti e due, per cui questo è quello che ci divide. E poi c'è un'altra differenza, lui ha iniziato a leggere subito, lui ha iniziato a leggere a vent'anni, per bene, quindi abbiamo una differenza di punto di partenza molto grande. Grazie. Grazie. Grazie.